Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Nelle prossime ore assisteremo a un graduale peggioramento del tempo. Proprio questa notte arriverà una debole perturbazione che però porterà delle piogge, dei rovesci e localmente dei temporali sul nostro territorio. Ma se vediamo dalla grafica, poi il tempo gradualmente nella giornata di domani e di domenica gradualmente migliorerà. Sebbene resteremo in compagnia di qualche nuvola, più probabile al primo mattino, ma poi tendenzialmente avremo un graduale miglioramento del tempo. Ma poniamo l'attenzione invece alla grafica successiva. Perché vedete come proprio la settimana prossima saremo interessati da un'intensa onda di calore. Probabilmente la più intensa dell'estate 2017. Infatti un vasto promontorio anticiclonico andrà a centrarsi proprio sulla Sardegna. Pilotando tutta dell'aria calda proveniente dal Nord Africa in direzione del centro-nord dell'Italia. Avremo dei picchi di temperatura significativi proprio a partire da metà della settimana prossima. Dove localmente anche a Clusone sfioreremo i 33-34 gradi. Pensate che nella città di Bergamo si raggiungeranno anche i 37-38 gradi e punte di 40 gradi in Val Padana. Quindi massima attenzione proprio a metà della settimana prossima e sul finire anche la settimana prossima, quando il caldo sarà davvero eccezionale e la sensazione di afa sarà significativa. Ma andiamo con ordine e vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani e domenica. che vede un graduale miglioramento del tempo, specie avremo gli ultimi annuvolamenti ma proprio al primo mattino, intendo dire alle 4-5 della mattina, avremo ancora un cielo nuvoloso. Ma poi nel corso della mattinata avremo graduali schiarite sul nostro territorio, anche se rimarremo in un contesto di variabilità. Infatti avremo nubi alternate a schiarite. Questi annuvolamenti saranno più probabili nella zona dell'Alta Valle Seriana e Alta Val Camonica e Valle di Scalve, proprio perché maggiormente interessate dal flusso umido occidentale. Le temperature saranno nella media del periodo, con uno zero termico nel corso della giornata che si posizionerà intorno ai 4.000 metri di altitudine. Quindi una giornata nel complesso discreta, non ci attendiamo delle piogge particolarmente significative, se non qualche equazione, ma proprio, ripeto, solo al primo mattino della domenica. Andiamo all'evoluzione del tempo per la settimana, che vede un inizio di settimana con una graduale stabilità dell'atmosfera, ovvero avremo prevalenza di tempo soleggiato già a partire dalla giornata di lunedì con temperature in graduale ripresa. Lunedì non sarà ancora una giornata estremamente calda, vedete temperature comprese fra i 17 gradi di minima a clusone e i 29 gradi di massima. Ma andiamo già alla giornata di martedì, dove avremo un graduale aumento da temperatura, punte di 31 gradi anche a clusone e 32-33 gradi a Bergamo, con uno zero termico in innalzamento a 4.100 metri di altitudine. Ma la vera e propria, diciamo, vampata di aria calda ci raggiungerà nella giornata di mercoledì, dove ho indicato anche i valori minimi in graduale aumento, quindi via via anche una sensazione di AFA maggiore. avremo punte di 31-32 gradi già a clusone nella giornata di mercoledì con uno zero termico, pensate, oltre i 4.300 metri di altitudine. Cosa cadrà poi nella seconda parte della settimana? Vedete come giovedì ho indicato molto caldo. Avremo appunto quest'aria, veramente un'onda di calore, una vampata calda che raggiungerà il nostro territorio e darà i suoi massimi effetti. Fra giovedì e venerdì ho indicato 32-33 gradi, sia giovedì che venerdì a clusone. Fortunatamente la Valle Seriana sarà interessata, vero, da questa onda di calore, ma non raggiungeremo dei valori particolarmente eccezionali, sebbene 32-33 gradi anche a clusone sono importanti come temperature. Vedete ho indicato addirittura uno zero termico che potrebbe sfiorare i 5.000 metri di altitudine. E appunto quest'onda di calore sarà eccezionale anche per la città di Bergamo, dove qui invece si raggiungeranno, pensate, anche i 37-38 gradi. Cosa accadrà nel prossimo fine settimana? Probabilmente questo anticiclone africano non mollerà la presa sul nostro territorio e saremo ancora in compagnia di forte caldo e stabilità atmosferica. E per il metodo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.